ahahah ragazzi bentornati qui su marco tube oggi siamo qui tornati con l'estazione del secondo contest cioè quello di quello che avevamo fatto venerdì scorso che avevo estratto venerdì scorso l'estazione del primo contest e avevo indetto questo nuovo contest quindi anche oggi c'è un nuovo contest quindi pure ho pure oggi che scrivete qua sotto nei commenti partecipo il nome della console perchè questo e già rimuovo un altro un altro contest quindi questo questo qua è il terzo contest e c'è l'estazione del secondo bello il video storico ahahah allora il mio canale allora vi ringrazio intanto mi approfitto ancora per ringraziare per i 100 iscritti sono veramente contento e comunque che cazzo devo fare ah si andare un piccolo questo qua è il video 74 visualizzazioni e 22 like perfetto grande genio grande genio allora non ci sono altre cose da provare quindi facciamo notte così copia e poi andiamo qua se magari lo ecco ok comunque io vi ricordo che qua sotto scrivete di nuovo partecipo il nome della console anche se voi perdete non vi abbattete continuate a partecipare tanto partecipare gratis basta un commento ehm scrivete qui sotto partecipo e per per l'estrazione di questo contest venerdì prossimo dobbiamo arrivare a ehm 25 like dobbiamo arrivare a 25 like perchè ho visto che siamo arrivati a 22 dobbiamo arrivare a 25 e faccio le stazioni del contest dobbiamo arrivarci comunque per partecipare al contest dovete scrivere sotto partecipo i console essere iscritti al canale mi raccomando perchè controllo poi dopo fuori perchè vorrei privacy sui miei iscritti e vabbè comunque adesso staremo nel vincitore ah come è successo nella scorsa stazione mi ha continuato a scrivere il video il secondo estratto io ne io estraggo il primo che è il vincitore se il primo non ehm mi contatta ne io se non mi contatta il 24 o il primo do l'account al secondo quindi ehm se il secondo non riceve niente è perchè il primo mi ha contattato quindi non arrabbiatemi insomma riprovate comunque sempre comunque allora carichiamo i commenti di questo video che erano 34 direi di sì 37 e andiamo che è il vincitore Antonino Cannizzaro è il vincitore partecipo PS4 nel caso lui non mi contattasse nel caso ehm ha vinto Leonardo Gazzon partecipo PS4 però se mi contatta Antonino Cannizzaro ehm ehm insomma Leonardo Gazzon non hai vinto insomma ehm vabbè comunque ragazzi vi ricordo di partecipare qui sotto per questo nuovo contest io vi ringrazio per la visione di questo video non è un video cavolo ehm oggi uscirà lo speciale 100 iscritti uscirà questo e uscirà anche un altro video che ci tengo che voi guardiate perchè se lo guardate ehm è una cosa che non riesco mica a trovare mi servirebbe vabbè vedrete il video comunque vi ringrazio partecipate qui sotto lasciate 25 like per il prossimo contest se non ci becchiamo al prossimo video ciao a tutti